Siamo qui con Fulvio Grandinetti, presidente dell'Ampigrugliasco, in occasione della pasta asciutta antifascista, lanciata dai fratelli Cervi il 25 luglio del 43, e però l'Ampigrugliasco in questa occasione ha dato ampio spazio al ventennale dei fatti successi a Genova durante il G8 del 2001. Quindi c'è un filo conduttore tra l'8 settembre, i fatti che successero nel 43 e quello che successe nel 2001 a Genova? Secondo noi sì, perché quello che è accaduto nel 1943 all'indomani dell'arresto di Benito Mussolini fu manifestazioni spontanee, le forze antifasciste, gli elementi che insomma erano già politicamente alfabetizzati, che avevano condotto la lunga, lunghissima, ventennale lotta clandestina contro il fascismo, potevano emergere e guidare, come ad esempio avvenne in alcune città come Torino, dove furono montati dei camion e furono sfondate le porte delle carceri per la liberazione dei detenuti politici che stavano dentro le carceri da tanti anni. Quindi un elemento di spinta popolare dal basso, quindi un elemento come la congiura di Palazzo che portò all'arresto di Mussolini, si è però tradotto in un movimento dal basso che ha poi prodotto ciò che accadde dopo l'8 settembre 43, quindi dopo 40 giorni dal 25 luglio, cioè l'inizio della resistenza, cioè la riorganizzazione in quel caso, in quel contesto per l'Italia dell'epoca, nelle formazioni politiche clandestine, quindi il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, insomma tutte le varie forze che all'epoca erano state messe fuori legge. E quello che accadde a Genova nel 2001 è stata una grande esperienza popolare, il social forum, che sostanzialmente chiedeva di poter partecipare alle decisioni che 8 persone, G8, si diceva voi G8, noi 6 miliardi, perché adesso siamo quasi 7 miliardi, ma all'epoca eravamo 6, prendevano a nome di quei 6 miliardi, quindi vogliamo partecipare alle decisioni, non ci basta che ci sia qualcuno in un palazzo a decidere per noi, vogliamo prendere parte a queste decisioni, quindi vogliamo partecipare, vogliamo poter decidere e in sostanza è questo che si chiedeva, quindi più democrazia, più partecipazione, più spazio di partecipazione popolare e quindi giustizia sociale e quindi gli spazi concreti per poter partecipare e quindi nel caso del 2001 si diceva anche con uno sguardo e oggi l'abbiamo anche ben focalizzato rispetto all'ecologia, rispetto al clima, perché magari non ce lo si poneva nel 1943 questo tema, oggi è un tema assolutamente centrale se si parla di democrazia non in termini astratti ma concreti. C'è questo bellissimo documento dei 110 premi Nobel del dicembre del 2001, non è un caso, sia sempre quello l'anno, che abbiamo anche riportato oggi nel ricordare i fratelli Cervi, perché questi 110 premi Nobel dicono proprio questo, cioè a 2-3 mesi dall'attacco delle torri gemelle a New York, dall'invasione dell'Afghanistan, dalla dichiarazione della guerra infinita da parte di George Bush, 110 premi Nobel hanno elaborato questo documento che si chiama I prossimi 100 anni, in cui hanno scritto queste 15-20 righe, scritte molto semplici, comprensibili a tutti, in cui si dice chiaramente che il problema nei prossimi anni non deriverà dal terrorismo, come si diceva in quei mesi, in cui terrorismo, il terrorismo, il terrorismo, dobbiamo essere più sicuri perché c'è il terrorismo e quindi il problema deriverà dalla mancata giustizia sociale, dalla mancata democrazia, è quello il punto. E ovviamente i 110 premi Nobel l'associavano, perché era appena scoppiata questa guerra infinita contro il terrore, che apparentemente può andare avanti per un secolo, ed è un problema la guerra, quindi vogliamo avere un mondo di pace, un mondo di libertà, un mondo di democrazia? Non dobbiamo scatenare guerre contro il terrorismo, dobbiamo impedire che il terrorismo nasca e dobbiamo, per fare questo, garantire più diritti, più democrazia, più partecipazione. E' così che si costruisce la pace, conoscendosi, avere a che fare con i popoli e non trasformarli in nemici. Quindi noi ce lo vediamo molto, questo collegamento. Infatti siamo stati a Genova il 20 luglio, pochi giorni fa, abbiamo detto che la lotta anche del social forum nel 2001 era mossa da due grandi sentimenti d'amore, che sono da una parte la libertà e dall'altra parte l'antifascismo. Grazie.